Do il benvenuto a nome di tutti a Lorenzo Vidino che ci ha raggiunto dagli Stati Uniti. E diceva, ah ma se vuoi capire qualcosa, mi ha detto, di quello che succede in Europa, leggi questo, mi ha dato il titolo di un libro che poi ho ricercato, che esiste solo in inglese e forse in arabo nel frattempo, ma non in italiano, e che era dedicato all'estremismo islamico in Europa. Era uno, credo, dei primissimi studi ampi e articolati nel panorama europeo e mi sono imbattuto appunto per la prima volta in questo nome, che poi invece ho seguito un po' nelle ricerche, nei lavori che ha fatto in questi anni. È un esperto tra i massimi, Lorenzo Vidino è uno dei massimi esperti internazionali di estremismo, e in particolare di estremismo islamico. Dirige un programma alla George Washington University di Washington e si appresta a aprire e inaugurare un programma simile all'ISPI di Milano, il cui direttore è stato con noi, Paolo Magri, chi è stato presente in questi giorni, in questi nostri incontri, lo ha conosciuto in queste giornate. Dicevo, è un esperto di islamismo in Europa e negli Stati Uniti, in Occidente in generale, e ha fatto parte, e sta tuttora facendo parte, della Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione dell'estremismo jihadista a Palazzo Chigi, cioè presso la nostra Presidenza del Consiglio. Commissione che ha fatto tutto il lavoro preparatorio e che è sfociato in una legge che ha passato l'esame della Camera, adesso sperando nella vicenda della turbolenta politica italiana, passerà l'esame del Senato, speriamo, pensiamo, in questo autunno. Quindi davvero do il benvenuto per questa fatica che si è sobbarcato nel venire qui e nel poter dialogare con noi su queste tematiche. Come sempre abbiamo fatto in questi giorni, ci esporrà alcuni punti focali, alcuni punti fondamentali del suo lavoro, del suo lavoro di ricercatore, di studioso di questi fenomeni e poi daremo vita appunto a un momento di approfondimento, osservazioni, spunti, domande, eccetera, eccetera, come sapete. Allora, grazie ancora Lorenzo della tua fatica nell'essere arrivato qua. Grazie mille. No, è un vero piacere, nessuna fatica assolutamente, un pochino di fuso orario che magari interviene a un certo punto, però è assolutamente un piacere essere qui e grazie a voi per la vostra presenza. Chiaramente parliamo di radicalizzazione, parliamo di un concetto che già di per sé merita forse un inquadramento, perché è una parola brutta, è una parola che è molto arbitraria nel proprio significato, cioè cosa intendiamo per radicalizzazione, cos'è radicale, come potete immaginare è un termine soggettivo, quello che può essere radicale per me può non essere radicale per te, è un termine che dà una connotazione negativa, quando in realtà nell'essere radicale di per sé non c'è niente di male, anzi è una cosa positiva in certi casi. È però il termine d'arte, ormai il termine che viene utilizzato da una decina d'anni per definire un processo, cioè per definire quel processo attraverso il quale un soggetto va ad adottare una visione del mondo che è completamente contraria a quella che è mainstream, a quella che è di maggioranza, cioè quindi una visione del mondo che viene dai più definita estremista, tautologicamente radicale, e che include l'utilizzo o perlomeno la legittimazione della violenza come parte integrante. Ripeto, siamo nell'ambito dell'arbitrarietà però, perché ripeto, cos'è radicale, cos'è moderato, cos'è estremo o no, insomma non sempre è chiaro ed è spesso soggettivo, è spesso anche geograficamente o culturalmente dipendente, un certo concetto può essere radicale, oggi non esserlo più fra vent'anni, un'idea può essere estremista, qui in Italia può non esserlo in un altro paese, in un'altra cultura. È però questo il termine con cui ormai si definiscono tutti questi processi. Oggi quando si parla di fenomeni di terrorismo, l'ambito di analisi è passato molto di più a fenomeni individuali. 20-30 anni fa quando si studiavano, si parlava di terrorismo, si studiavano molti gruppi, oggi si parla più di individui. L'analisi è passata su quelli che sono i processi individuali. È quindi un campo anche molto difficile, perché come potete immaginare dobbiamo cercare di capire processi personali, interni a una persona. Come capire qual è il processo, quali sono le idee, quali sono i passaggi che un soggetto compie per passare da uno stato di normalità a uno stato di radicalismo, cioè all'aderire a un'ideologia estremista e che prevede l'uso della violenza. Violenza spesso, come vediamo nella nostra purtroppo ormai quotidianità di attentati in Europa come in altre parti del mondo, violenza indiscriminata, violenza molto diversa anche dalla violenza utilizzata da gruppi terroristi nel passato, contro civili, contro bambini, una violenza terroristica diversa da quella di 30-40 anni fa. Io mi occupo, come è stato detto giustamente, di terrorismo, di radicalizzazione jihadista. Va però detto, e forse questo è il primo punto, la radicalizzazione avviene attorno a un insieme di ideologie estremiste. Non c'è un'esclusività della radicalizzazione jihadista. Si può parlare di radicalizzazione ispirata dall'estrema destra, dall'estrema sinistra, da altre ideologie. In realtà, lavorando negli Stati Uniti, in queste ultime settimane il dibattito è stato sulla radicalizzazione di estrema destra. Dopo gli eventi di Charlottesville si è visto che sì, è vero, l'estremismo dello Stato islamico ha colpito anche negli Stati Uniti, anche se meno che in Europa, però esiste un fenomeno di radicalizzazione di estrema destra negli Stati Uniti molto importante. I processi sono simili. Il processo in cui un soggetto si avvicina all'ideologia di questi gruppi estremisti di destra è in certi casi molto simile al modo in cui un soggetto, spesso di origine musulmana, si avvicina all'ideologia jihadista. Quindi ci sono chiaramente delle peculiarità legate a ogni ideologia, ma ci sono delle similitudini. I processi di radicalizzazione si assomigliano. Detto ciò, e qui si arriva a una delle difficoltà di capire, di parlare di radicalizzazione, non esiste un percorso unico di radicalizzazione, non esiste una traiettoria univoca, cioè non esiste il percorso standard, si parte così e si arriva così. Il percorso, la traiettoria di radicalizzazione può essere in certi casi brevissima. Abbiamo soggetti, nel mio lavoro mi occupo molto di casi, di soggetti che vengono arrestati e quindi ho accesso spesso alle carte processuali che spiegano i percorsi di radicalizzazione di questi soggetti. E in certi casi abbiamo soggetti che non hanno mai avuto un interesse particolare in un'ideologia estremista, guardano due o tre video su YouTube, diventano amici, spesso anche solo virtualmente, con altri soggetti e tempo una settimana si mobilitano e partono per la Siria per unirsi allo Stato Islamico. Quindi percorsi di radicalizzazione flash, di una velocità e di una superficialità impressionanti. Abbiamo invece percorsi di radicalizzazione che possono durare anni e percorsi di radicalizzazione che sono invece basati su uno studio approfondito dell'ideologia. Quindi si diventa estremisti dopo aver letto scaffali e scaffali di ideologia estremista o dopo aver guardato due video sul proprio cellulare. Non esiste poi un profilo univoco della persona radicalizzata. E penso che l'eterogenità sia probabilmente il fattore principale dei fenomeni di radicalizzazione. E in particolare quando parliamo di radicalizzazione jihadista in Europa, che è in sostanza quello di cui ci stiamo occupando e che così tanto riempie le nostre cronache negli ultimi anni, l'eterogenità è il fattore principale. Abbiamo soggetti radicalizzati di un'età preadolescenziale. Uno degli ultimi casi che abbiamo visto in Germania è stato di un ragazzino di 12 anni che aveva raccolto su YouTube le istruzioni su come costruire delle bombe e per un piccolo piccolo difetto non ci era riuscito, ma era praticamente andato vicinissimo al costruire queste bombe. Le aveva piazzate davanti al mercatino di Natale di una piccola città tedesca. E abbiamo soggetti sui 50-60 anni. Se vi ricordate l'attentatore del primo attentato di Londra di quest'estate, quello sul ponte di Westminster, era un uomo sulla cinquantina. Abbiamo uomini e donne. Questa è un'altra novità del jihadismo che vediamo oggi. Se pensiamo all'ideologia jihadista come un'ideologia misogina, ci viene forse difficile pensare a come possa una donna essere attratta a un'ideologia del genere, la realtà è ben diversa. E ad esempio abbiamo in paesi come la Francia, ormai il 30-40% dei soggetti arrestati per attività legate al jihadismo sono donne. Abbiamo profili totalmente eterogenei, anche per quanto riguarda il background socio-economico. Non esiste anche qui un soggetto, molti degli assiomi che adesso vengono citati, terroristi sono poveri, terroristi sono poco istruiti. Esistono dei soggetti che hanno dei livelli di istruzione molto bassi, che sono poco inseriti a livello sociale, a livello familiare, a livello lavorativo, ma abbiamo anche un numero molto alto di soggetti radicalizzati che invece sono tutto l'opposto. Hanno titoli universitari, spesso anche avanzati, dottorati, hanno posizioni lavorative di successo, hanno una buona vita familiare, sono pienamente inseriti nelle società in cui si radicalizzano. Pensiamo al fenomeno nuovo, o relativamente nuovo, dei convertiti che si radicalizzano. Che qui, chiaramente, questo è un caveat fondamentale a tutto quello che sto dicendo, parliamo di numeri statisticamente insignificanti. È vero che negli ultimi anni abbiamo visto un relativo boom di radicalizzazione in Europa, ma è chiaro che solo una parte statisticamente insignificante di musulmani europei è attratta dall'ideologia jihadista. Allo stesso modo abbiamo in ogni paese europeo ormai un numero di convertiti all'islam molto importante, tra questi una percentuale, chiaramente statisticamente molto bassa, però sproporzionata di questi è interessata o viene attratta dall'ideologia jihadista. Quindi pensiamo in paesi come, ad esempio, gli Stati Uniti, parlavo di Europa, ma molte di queste dinamiche sono presenti anche in Nord America, il 40% dei soggetti arrestati per attività di tipo jihadista sono convertiti all'islam. Anche qui le spiegazioni sono varie su perché possa essere una mancanza della conoscenza della religione islamica e quindi una facilità da parte di reclutatori di portarli su una visione estremista e politicizzata della religione. Manca quindi, questa sono una serie di esempi, però giusto per far capire, l'eterogenità di quelli che sono i percorsi e i profili dei soggetti radicalizzati. Aprirei un pochino una parentesi, questo è il terzo punto nei 4-5 punti che mi avevi chiesto di affrontare, sul discorso integrazione, o meglio mancanza di integrazione e il rapporto con la radicalizzazione. Questo chiaramente è un discorso specifico alla radicalizzazione di stampo jihadista che vediamo in Europa. E direi che chiaramente esiste un livello di analisi che vede la mancanza di integrazione della quale indubbiamente e sfortunatamente soffrono una parte importante delle comunità islamiche presenti nei vari paesi europei, vedono in questa situazione di disagio un legame a stretto filo con la radicalizzazione. È chiaro che è un'analisi che di primo pelo, di primo acchitto, è molto logica, non sono soggetti ben integrati, quindi ci sono fenomeni di radicalizzazione. Se però guardiamo attentamente i dati, cominciamo ad analizzare un pochino le certe situazioni, cominciamo a vedere che questa teoria perde un pochino di validità, diciamo che vacilla. Con ciò non voglio dire che la condizione sociale, una condizione di integrazione o di mancanza di integrazione non abbia un impatto sulla radicalizzazione, ma voglio dire che esistono anche altri fattori. Cominciamo a farla vacillare un pochino questa teoria. Come abbiamo visto c'è stato negli ultimi anni una forte mobilitazione dall'Europa verso la Siria e l'Iraq, cioè sono partiti dall'Europa un numero senza precedenti, dal punto di vista storico, dei cosiddetti foreign fighters, di soggetti attratti dallo Stato islamico e da altri gruppi che sono andati in Siria e in Iraq a combattere con l'ISIS, con questi altri gruppi. Si parla di stime dell'Unione Europea, 6.000 soggetti che sono partiti dall'Europa. Numeri, ripeto, statisticamente bassi per una popolazione europea di 25 milioni di musulmani, però chiaramente un numero importante di soggetti. Se vediamo, questi 6.000 soggetti non sono distribuiti nei vari paesi europei in maniera proporzionale, a seconda della popolazione, ma in maniera molto diversa. E, e questo sembra un paradosso, i paesi che hanno contribuito un numero più alto proporzionalmente o in modo assoluto di foreign fighters sono i paesi del centro-nord Europa, cioè i paesi che in realtà investono di più nell'integrazione e che, giudicando quelli che sono, poi chiaramente capire cos'è un buon livello di integrazione è soggettivo, però se guardiamo a quelli che sono i fattori tradizionalmente usati per giudicare l'integrazione, accesso all'istruzione, reddito, conoscenza linguistica, i paesi del Scandinavi, ad esempio, sono paesi migliori, più virtuosi dei paesi del sud Europa. I migranti lo sanno bene e quotidianamente optano per la direzione nord, non vogliono certo rimanere in Grecia, in Italia e in Spagna, ma vogliono chiaramente andare nei paesi del centro-nord Europa. Eppure, detto ciò, quanti foreign fighters partono dall'Italia? 125. Quanti partono dalla Spagna, nonostante l'attentato della settimana scorsa, la Spagna rimane un paese a basso livello di radicalizzazione, dalla Spagna partono in 200, partono invece in 1000 dalla Germania, partono in 350 dalla Svezia, paese con una popolazione musulmana molto più bassa, paese virtuosissimo dal punto di vista dell'integrazione, eppure con il triplo dei foreign fighters dell'Italia, nonostante una popolazione islamica in Italia di quattro volte più grande. Quindi siamo al paradosso, io con ciò non voglio fare l'avvocato del diavolo e dire che la poca integrazione è un antidoto alla radicalizzazione, ovviamente questo non ha alcun senso, però ci porta a riflettere. Se poi guardiamo nei singoli paesi europei, o anche in Italia, vediamo che poi i vari foreign fighters non sono distribuiti sul territorio nazionale, o meglio non sono distribuiti attraverso il territorio nazionale in maniera omogenea. Si è molto parlato di Belgio, chiaramente il Belgio è il paese che con gli attentati di Parigi, Bataclan e di Bruxelles è andato nell'occhio del ciclone come paese che ha contribuito più foreign fighters di ogni altro paese, paese in cui l'antiterrorismo ha avuto dei seri problemi. Partono dal Belgio appunto 600 soggetti, numero per proporzionamenti più alto d'Europa, se però guardiamo una mappa del Belgio con la provenienza di questi soggetti, vediamo che i foreign fighters del Belgio vengono da tre città, vengono da Bruxelles, vengono da Anversa e vengono da una piccola cittadina, metà strada tra Bruxelles e Anversa, che si chiama Philford, cittadina di 40-50 mila abitanti, dalla quale vengono 60 foreign fighters. È Philford particolarmente problematica? No, si danno spesso due analisi su perché ci si radicalizzi, si dice, è mancanza di integrazione e è una questione di internet, ci si radicalizza online. Philford da ogni punto di vista non è differente da una serie di altre cittadine del Belgio e non è che a Philford ci sia un accesso di wifi migliore che in un'altra cittadina del Belgio, non è che ci sia più internet a Philford che in un'altra cittadina. esiste però in queste tre città una scena, una catena, una filiera di reclutamento per la Siria e per l'Iraq. Quindi non è tanto una questione di marginalizzazione delle comunità islamiche del Belgio, o meglio, esistono dei forti problemi di marginalizzazione delle comunità islamiche del Belgio, ma questi sono ovunque, non sono più forti ad Ambersa, a Bruxelles o a Philford rispetto a Ghent, Bruges o altre città del Belgio. Quel livello di integrazione che è comune a tutto il Belgio può creare un sostrato, un humus fertile per la radicalizzazione. È però chiaro che intervengono altri fattori e spesso sono la presenza di catene di reclutamento, di soggetti quali predicatori, di reclutatori che costruiscono su quell'humus, su quel sostrato e portano alla radicalizzazione. Piccolo esempio italiano, molto locale, in realtà molto romagnolo, qual è la capitale italiana dei foreign fighters? Ravenna. Negli standard molto bassi italiani, ripeto, dall'Italia partono 125 foreign fighters, partono in circa 10 da Milano, 4-5 da Roma, 12 da Ravenna. Come noi sappiamo, chi viene da qua meglio ancora di me, Ravenna è una delle città più vivibili, più abbienti, sempre mi sembra top 5 nella classifica del sole 24 ore tra le città con il miglior standard di vita, ha chiaramente, come ogni altra città italiana, dei problemi di esclusione, di marginalizzazione, di comunità di migranti, questi sono assolutamente i problemi che sono presenti ovunque, forse però a Ravenna meno che da altre parti. Però Ravenna non è che abbia, dal punto di vista della marginalizzazione, dei problemi maggiori rispetto a Ferrara, a Rimini, a Faenza, a Imola, a Bologna. È chiaro che l'elemento determinante è un qualcos'altro e quel qualcos'altro è spesso la presenza di un soggetto radicalizzatore. Ultimo esempio molto attuale, poi chiudo con un'ultima cosa, degli ultimi attentati di Barcellona, come abbiamo visto, la maggior parte dei soggetti, degli attentatori ragazzini, molto giù, un'età che va dai 17 ai 25-26 anni, vengono quasi tutti da Ripoll, piccola cittadina, 10.000 abitanti, catalana, senza particolari problemi di integrazione. I grossi problemi di integrazione sono in altre parti della Catalogna. Eppure, coincidenza della vita, in quella cittadina opera un imam che per un motivo o per un altro riesce a creare un piccolo gruppo di seguaci, di adepti, tra questo gruppo di ragazzini che è cresciuto insieme, c'è questo processo di radicalizzazione collettivo, cioè attorno a questa figura carismatica questi 12-13 ragazzini si radicalizzano e quindi non è Ripoll in sé cittadina problematica, è il soggetto che, per circostanze assolutamente casuali della vita, finisce a Ripoll e radicalizza soggetti. Spero di aver dato un'immagine di eterogenità, di complessità. Fatemi chiudere, e purtroppo sempre parlando io di queste cose, di una visione poco ottimista, parlo sempre di cose poco gradevoli. Concludo però un paio di minuti con quello che si può fare contro questi fenomeni di radicalizzazione e quello che si può fare anche in Italia per prevenire quella che è la radicalizzazione. È chiaro che fenomeni di radicalizzazione che poi sfociano in terrorismo vanno affrontati con gli strumenti classici dell'antiterrorismo, monitoraggio, arresti, espulsioni, questo va da sé. Quando queste attività di radicalizzazione sfociano in attività penalmente perseguibili, in attività pericolose per la sicurezza nazionale, è chiaro che l'antiterrorismo, carabinieri, polizia, la DIROS, DIGOS, servizi e via dicendo, intervengono con gli strumenti classici dell'antiterrorismo. Per un insieme di motivi, e forse magari questa è una parte interessante per le domande, si è però capito ormai in quasi tutti i paesi occidentali, Italia inclusa, che gli strumenti classici dell'antiterrorismo non bastano, che bisogna andare a prevenire questi fenomeni prima ancora che si manifestino. Bisogna andare a lavorare insieme alla società civile, insieme alle comunità, insieme al mondo della scuola, insieme al mondo dell'assistenza, insieme a una serie di operatori, insieme a tutti quei soggetti che hanno a che fare con giovani che possono potenzialmente radicalizzarsi, per compiere un'azione di prevenzione della radicalizzazione, o in certi casi, deradicalizzazione. Un altro dei discorsi importanti dell'antiterrorismo in questo periodo è come deradicalizzare soggetti che si sono radicalizzati, come ad esempio deradicalizzare foreign fighters che ritornano da uno scenario di conflitto come quello siriano-iraccheno. In Europa si lavora su queste dinamiche da una decina d'anni. In Italia siamo un pochino indietro, parzialmente perché i fenomeni di radicalizzazione sono stati ridotti rispetto ad altri paesi europei, ma si sta muovendo un qualcosa. A luglio è passata, come è stato ricordato prima, la legge, perlomeno alla Camera, poi dovrà essere approvata anche al Senato, che prevede la prima strategia italiana di prevenzione della radicalizzazione e che giustamente prevede un'inclusione della società civile nella prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Cioè si sposta parzialmente l'onere della prevenzione della radicalizzazione e quindi dell'antiterrorismo in generale dall'essere interamente onere degli attori classici dell'antiterrorismo, polizia, servizi e via dicendo, ha un partenariato tra questi organi e la società civile. Cioè si capisce che non può essere solo la polizia, non può essere solo i servizi a lavorare su questo tipo di dinamiche, che sono dinamiche che colpiscono tutta la società e che richiedono un aiuto chiaramente basato su regole chiare, su una condivisione e su un rapporto fiduciario tra Stato e società civile. Questa è ormai la dinamica ormai chiara e ormai abbastanza standardizzata in paesi europei. Sta arrivando in Italia e forse questo è il dibattito grosso in seno all'antiterrorismo per i prossimi anni. Io chiudo qui. Bene. Grazie, ci sono state cose veramente interessanti, punti di vista assolutamente inediti per tanti di noi, me compreso, perciò penso che ci sia molta materia sulla quale chiedere approfondimenti o sviluppare spunti, osservazioni, quindi chi le ha le faccio subito. Buonasera, io volevo chiedere rispetto a questi soggetti radicalizzatori di cui ha parlato che sono più presenti nel nord Europa, cioè, questa forse è un'inferenza mia, che comunque lei ha detto essere degli elementi determinanti, per quale motivo secondo lei sono meno presenti in Italia o se sono meno presenti in Italia rispetto al resto? Grazie. No, hai perfettamente ragione che c'è una presenza minore, io direi che poi la variabile è fondamentale, è chiaro che sono discorsi molto complessi e capire esattamente cosa determini questo diverso livello di radicalizzazione, innegabile dal punto di vista empirico tra centro-nord Europa e sud Europa, è chiaro che ci sono un insieme di fattori, l'altro fattore grosso di cui si parla è il fatto che nel sud Europa non abbiamo ancora visto un numero importante di seconde generazioni e dato chiaro la radicalizzazione legata allo Stato islamico è una radicalizzazione delle seconde generazioni, cioè il 90% dei soggetti che si sono mobilitati dai paesi del centro-nord Europa per lo Stato islamico sono o immigrati di seconda e terza generazione o convertiti, quindi pochissimi immigrati nuovi, pochissimi rifugiati, qualche caso isolato, ma sono soprattutto soggetti di seconda e terza generazione. In Italia, come in Spagna, come in Grecia, come in Portogallo, per ovvi motivi di ritardo nei flussi migratori, non abbiamo ancora numeri importanti, o meglio solo ora stiamo entrando in una fase in cui abbiamo numeri importanti di musulmani di seconda generazione nati e cresciuti nel nostro paese. Quindi questa è una delle due differenze. L'altra è appunto, come dicevi tu giustamente, il fatto che non ci siano, o meno ci siano solo in numero minore soggetti radicalizzatori nel nostro paese. Perché c'è un motivo fondamentale e si entra purtroppo in un tema abbastanza politicamente caldo e scorretto, ed è in sostanza l'operato molto aggressivo da parte del nostro antiterrorismo nell'espellere soggetti radicalizzatori. Cioè dall'inizio dell'anno, ma questo è un trend che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni, dal primo gennaio 2017 a oggi sono stati espulsi 72 o 73 soggetti dal territorio nazionale. Il che vuol dire una media di due soggetti alla settimana. Questi sono soggetti che non hanno ancora abarcato la soglia di punibilità. Cioè non hanno posto in essere comportamenti penalmente rilevanti, non possono essere arrestati. Però sono considerati, dopo una valutazione abbastanza attenta da parte del Ministero dell'Interno, sono soggetti che possono o azionarsi, mobilitarsi da un momento all'altro ed è questa la dinamica che abbiamo visto per molti degli attentati degli ultimi anni in Europa, cioè soggetti imprevedibili, magari noti per avere qualche tendenza estremista e che dall'oggi al domani si attivano e compiono attentato, oppure soggetti che fanno questa azione di predicazione, di radicalizzazione di altri soggetti. Azione che di per sé non è spesso penalmente rilevante. Giustamente viviamo in delle democrazie in cui esiste libertà di parola, poi chiaramente le leggi cambiano da paese a paese, però io ho la libertà di dire che lo Stato Islamico è un gruppo che io reputo splendido, ho il diritto di dire che è giusto che l'Islam non trionfi sopra ogni altra regione, è giusto anche dire che è giusto ammazzare infedeli. Queste sono come giusto che sia idee riprovevoli, però legalmente accettabili. Quello che però può fare lo Stato italiano è espellere questi soggetti in base a una legge del 2005 attraverso un decreto del Ministro in cui si espellono soggetti per motivi di sicurezza nazionale e questo strumento è stato utilizzato in abbondanza. E' chiaro che la differenza nei paesi del centro nord Europa è che la maggior parte di questi soggetti hanno la cittadinanza di quei paesi e quindi non possono la maggior parte chiaramente non tutti e quindi lo Stato svedese lo Stato tedesco lo Stato inglese non può espellere un cittadino svedese tedesco inglese in Italia salvo qualche eccezione la maggior parte di questi soggetti sono cittadini stranieri e quindi vengono espulsi dopo un'osservazione importante dopo una valutazione giuridica ma con uno strumento molto severo molto efficace che alcuni criticano da un punto di vista delle libertà civili e posso capire la critica ma che dal punto di vista stretto dell'antiterrorismo è molto molto efficace perché vai a estirpare a livello embrionale quella che potenzialmente è lo svilupparsi di una dinamica più complessa grazie la giù io ho letto i suoi articoli e le sue pubblicazioni riguardo lo jihadismo nei Balcani ero interessato a chiederle una cosa in particolare riferendoci all'operazione Balkan Connection e anche a queste moschee che sono piuttosto radicalizzate estremiste come quella di Al Saud a Sarajevo c'è un problema concreto per l'Italia per quanto riguarda la nostra sicurezza come l'Isis scrive nel giornale Rumia e se sì cosa possiamo fare noi per prevenire qualcosa che non è all'interno del nostro Stato dei nostri confini grazie no è chiaro che i Balcani e questa la comunità internazionale e i stessi governi dei vari stati balcanici capiscono di aver visto dei livelli di radicalizzazione importanti Kosovo Albania Bosnia hanno visto parte della Serbia con Sanjak hanno visto dei livelli di radicalizzazione importanti sono paesi in cui chiaramente le dinamiche di radicalizzazione sono diverse da quelle dei paesi dell'Europa occidentale questioni di povertà di mancanza di opportunità sono importanti perché è vero che molti soggetti partono da questi paesi non è sempre solo una questione di soldi di mancanza di lavoro però è anche vero che alcuni soggetti partono da questi paesi perché comunque ti paga è un'opportunità quindi è un mix di ideologia e di vantaggio sono paesi che per delle debolezze politiche interne hanno dei forti problemi a intervenire in maniera efficace insomma cegliano tutti i paesi dell'Europa occidentale questi problemi figuriamoci i paesi balcanici sono poi paesi oltretutto che per una questione puramente geografica sono più vicini all'aria di conflitto e penso in un periodo in cui la preoccupazione grossa è quella o una delle preoccupazioni grosse è quella del ritorno dei foreign fighters dallo scenario iracheno-siriano nel momento in cui l'ISI sta progressivamente perdendo territorialità e subendo sconfitte sul campo il fenomeno è quello del ritorno dei foreign fighters è chiaro che paesi che hanno dei problemi di controllo del proprio territorio e che sono però la porta all'Europa occidentale sono problematici non è un qualcosa che scopriamo noi è chiaro che da anni la comunità internazionale lo sa e da anni sia l'Unione Europea la Nato gli Stati Uniti tutta una serie di attori opera per dare una serie di forme di supporto a questi paesi chiaro con delle difficoltà quando poi parliamo dell'Italia in particolare diciamo che a fronte una popolazione di origine balcanica importante nei nostri paesi e che nella stragrande maggioranza dei casi vive un Islam molto tollerante molto moderato poco politicizzato questo è l'Islam tradizionale di questa regione vede però alcune individualità di soggetti radicalizzati importanti soprattutto nella zona del Triveneto ma anche c'è stato qualche caso in altre parti d'Italia di piccoli network piccole filiere sono state fatte un'operazione importante a Venezia di recente di soggetti legati a stretto filo a reclutatori importanti nei Balcani che sono stati un po' i reclutatori per la scena jihadista italiana cioè la scena jihadista italiana rimane molto amatoriale molto poco soffizionata sofisticata rispetto a quelli dei paesi del centro nord Europa i kosovari gli albanesi in particolare i macedoni sono stati spesso gli attori più sofisticati diventando reclutatori non solo di connazionali ma anche di nordafricani quindi sono stati casi di ragazzi di origine nordafricana che sono stati reclutati per lo stato islamico da balcanici quindi è una scena importante ben nota all'antiterrorismo italiano ma chiaramente in certi casi difficili da sradicare buon pomeriggio io in realtà avrei due domande quindi spero di non toglierle troppo tempo la prima voglio chiedere il famoso aforisma di Michel Onfray sul fatto che l'islam di matrice malachita non abbia preso sufficientemente le distanze dallo jihadismo di stampo salafita la seconda voglio rilacciarmi ad una parte del suo discorso relativamente al nord Europa virtuoso e al tanto vituperato sud Europa in particolare sul fatto che nel codice di procedura penale belga non era prevista la perquisizione tra le 3 e le 6 del mattino il quale è una scriminante puntuale è un esimente che sul piano concreto mi sembra abbastanza rilevante voglio sapere se lei aveva anche letto l'articolo del Guardian sul fatto che in Italia non ci siano stati ancora attentati terroristici per il fatto che il terrorismo degli anni di piombo abbia inciso in maniera puntuale sulla legislazione italiana la ringrazio quindi sono praticamente tre domande sono tre domande si è stata brevemente se tutte tre chiamare un po' di concisione sì 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 no sulla prima indubbiamente ripeto non ho difficoltà a collegare quello che il jihadismo perché chiaramente il problema va al di là dell'Isis l'Isis è il fenomeno problematico del momento prima era Al-Qaeda fra tre anni se mi rinviterete probabilmente parleremo di qualche altro gruppo che stanno già nascendo peraltro c'è una galassia diciamo che l'Isis è stato in questi anni il gruppo forte che ha preso lo scettro del jihadismo da Al-Qaeda ma anche Al-Qaeda è ancora presente poi è tutta una giungla una galassia molto fluida di gruppi quindi è difficile sapere cosa sarà da qui a solo un anno quindi è difficile dirlo però faccio fatica a collegare questo tipo di ideologia prettamente politica a delle scuole invece di quello che è l'Islam cioè parliamo di gruppi politici che usano la religione detto ciò è vero che comunque c'è un collegamento non così netto però c'è un collegamento a certe interpretazioni come la scuola Wabita o comunque al salafismo qua entriamo in problemi filosofici teologici molto complessi però è innegabile che l'Isis deriva alcune delle sue interpretazioni da quello che è il wabismo e quindi l'interpretazione mainstream saudita però insomma chiaramente farei una distinzione tra ideologie prettamente politiche con quelle che invece sono le madab classiche le scuole di interpretazione dell'Islam seconda domanda era quella sui paesi io non ho parlato assolutamente non parlo mai di paesi del centro nord d'Europa come virtuosi dal punto di vista dell'antiterrorismo ne ho parlato di paesi come virtuosi per quanto riguarda l'integrazione o meglio per quanto riguarda gli sforzi dell'integrazione per quanto riguarda invece l'antiterrorismo pura io sono molto patriottico ma non perché voglia esserlo perché l'Italia invece fa un ottimo lavoro in realtà collego la terza domanda l'Italia come anche la Spagna e questo non è che un attentato faccia cambiare l'idea su un sistema antiterrorismo l'attentato può succedere a tutti non esiste un sistema perfetto è chiaro che i paesi che hanno una lunga storia di terrorismo e nel caso dell'Italia anche di criminalità organizzata perché poi la legislazione spesso è molto simile ad esempio il regime carcerario è uguale per terroristi e mafiosi è chiaro che paesi che da 30 40 50 anni si confrontano con fenomeni terroristici e ripeto di criminalità organizzate importanti quindi come l'ETA in Spagna o tutto il terrorismo che abbiamo vissuto noi dagli anni 70 in avanti c'è un'eredità sia dal punto di vista normativo che culturale che l'esperienza a livello di giudici a livello di magistrati di magistratura inquirente a livello di antiterrorismo di effettivi insomma alcune delle persone che si occupano di terrorismo islamico oggi in Italia erano persone che già negli anni 80 e 90 si occupavano di terrorismo è chiaro che questo expertise è fondamentale rispetto a paesi come il Belgio come i paesi scandinavi che non hanno questa esperienza quindi non sono necessariamente paesi poi bisognerebbe entrare nel dettaglio di quali paesi però c'è chiaramente la norma belga penso che sia in realtà più delle 3 alle 6 del mattino mi sembra che sia da mezzanotte alle 6 del mattino se non sbaglio che non prevede le perquisizioni o ha una serie di altre difficoltà se non addirittura impossibilità per l'antiterrorismo sono molto diversi da quella che è l'impostazione italiana che invece è molto efficace non perfetta perché la perfezione è di questo mondo ma molto efficace ho una domanda da parte di Franco lui chiede che senso ha creare del terrorismo se poi non porta dei cambiamenti concreti in campo politico dove questi attentati vengono effettuati come a dire cioè a che cosa mirano certo difficile difficile dirlo chiaramente è un'ottima domanda direi che se ci riferiamo in particolare all'isis e quello che sta succedendo in questi giorni gli obiettivi sono due sostanzialmente da parte dello Stato Islamico il primo è di indebolire la volontà dei paesi occidentali a intervenire nello scenario medio orientale cioè fino a qualche anno fa all'inizio 2012 2013 quando lo Stato Islamico si è ha conquistato territorio in Siria e in Iraq l'obiettivo principale era quello cioè creare uno Stato Islamico Siria e Iraq espanderlo nella regione in quegli anni l'interesse a colpire da parte dello Stato Islamico a colpire nei paesi occidentali era limitato cioè la loro priorità era quella quindi anche strategicamente erano poco interessati a colpire in realtà a risvegliare l'interesse di una comunità internazionale come degli paesi occidentali che per un motivo o per un altro era paralizzata e non interveniva né in Siria né in Iraq iniziano gli attentati su scala pesante ma sì c'è il momento in cui i paesi occidentali si formano una coalizione e intervengono lì quindi l'idea è li colpiamo esattamente come nel 2004 la Spagna era stata colpita perché la Spagna era uno dei paesi chiave che era intervenuto in Iraq e quindi l'idea scritta dalla leadership di Al-Qaeda li colpiamo il pubblico spagnolo si ribella contro l'intervento in Iraq il truppo spagnolo si ritirò nel 2004 aveva funzionato perfettamente il che non vuol dire che essere intervenuti sia sbagliato perché comunque era chiaro che lo Stato Islamico stava prendendo piede e conquistando una serie di territorio nella regione c'è una seconda motivazione che è invece quella di polarizzare le società occidentali cioè creare una tensione sempre maggiore tra comunità islamiche e resto della società non è un caso che a colpire siano nella stragrande maggioranza dei casi soggetti nati e cresciuti nelle società in cui colpiscono cioè gli attentati in Inghilterra gli fanno soggetti inglesi in Catalogna gli fanno dei musulmani nati in Catalogna in Francia sono francesi è l'idea di creare queste tensioni all'interno di queste società è chiaro che da questa polarizzazione viene la radicalizzazione l'idea è questa se si vuole dividere e così questa è la logica dell'Isis il mondo tra musulmani e non musulmani che non esistono altre identità è questo questo conflitto cosmico che vede l'Isis quale modo migliore di creare questa dinamica anche in Occidente se non creando il sospetto se non creando questa tensione tra noi e loro creando questa distinzione già solo il fatto che parliamo di noi e loro già è fatta già lì abbiamo creato polarizzazione riguardo all'ultimo punto di cui abbiamo parlato cioè la prevenzione e correzione della radicalizzazione nel momento in cui i foreign fighters tornano dalla Siria dall'Iriac insomma dal momento che più o meno stiamo diventando sempre più consapevoli del fatto che i motivi che spingono questi individui a radicalizzarsi siano molto eterogenei com'è possibile sviluppare un metodo di prevenzione veramente efficace dal momento in cui appunto i motivi sono così svariati e particolari era la stessa domanda che avevo io cioè questi programmi come possono intervenire su ogni singolo caso ma è la domanda che hanno tutti in realtà è difficilissimo dare una risposta è assolutamente la domanda più logica vista queste eterogenità di profili e di motivazioni e di traiettorie nella radicalizzazione è chiaro che non esiste un approccio univoco per la deradicalizzazione è chiaro che quello che funzionerà per il ragazzino quindicenne che è partito anche ingenuamente perché ha visto il conflitto siriano come un'estensione dei videogame che gioca a casa quindi con un processo mentale anche poco maturo sarà totalmente diverso per una ragazza di trent'anni che è partita o per un cambia ogni persona è diversa e non esiste un profilo univoco è chiaro che quello che viene fatto sia a livello di prevenzione perché le dinamiche sono due una è la prevenzione una è la deradicalizzazione quello che si fa è chiaramente lavorare molto sull'individuo cioè fare un'analisi di questi soggetti ogni singolo soggetto da un punto di vista psicologico da un punto di vista personale e capire quali sono i tasti giusti e capire a che livello si può intervenire è chiaro che ormai è la cosa più comune del mondo il vedere i classici soggetti dell'antiterrorismo le spie l'intelligence con barbe finte e occhiali è lavorare a stretto filo con gomito a gomito con psicologi e psichiatri questa è la realtà il che non vuol dire prima di tutto capiamoci non c'è a livello europeo un'ingenuità nel quale si vuole dire che si risolve tutto con un approccio con qualche pacca sulla spalla qualche psicologo e qualche buona parola prima di tutto chi torna dalla Siria in Iraq è visto a ragione o torto come una potenziale minaccia e se si può arrestare viene arrestato tendenzialmente il problema è che nella maggior parte dei casi o in numero importante di casi per esempio in Belgio il 90% dei 100 circa soggetti che sono tornati noti all'intelligence belga come foreign fighter e sono tornati in Belgio il 90% non è stato arrestato o perché mancano gli strumenti giuridici per esempio partire per uno scenario di guerra non era un reato fino al 2015 la legge penale non può essere retroattiva chi è partito prima secondo anche per chi è partito dopo ci vogliono le prove è chiaro che bisogna avere delle prove un conto è sapere un qualcosa a livello di intelligence un conto è avere le prove da portare davanti a un giudice è chiaro che lo standard è diverso quindi con delle realtà paradossali di soggetti che magari mettono postato su facebook le foto proprie in Siria con in divisa militare con la K47 chiaramente di simpatia giadista ma non vengono arrestati perché? perché qual è il crimine? postare una propria foto in uno scenario di guerra non è un crimine di per sé è chiaro che è il segreto di Pulcinella che questo sia unito a qualche milizia giadista ma io lo devo provare in un tribunale cosa non facile quindi per tutte queste difficoltà se non si può arrestare si può monitorare però si cerca anche di quindi è in realtà uno sforzo che viene fatto quasi per frustrazione per mancanza di quello che è lo strumento primario che sarebbe l'arresto e quindi si lavora sul deradicalizzare e in certi casi sarà un approccio molto legato a dinamiche familiari si cerca ad esempio di coinvolgere soprattutto per i soggetti giovani i genitori padri madri ci sono molte organizzazioni di genitori ad esempio si cerca di appunto spingere su su tasti personali per certi altri soggetti c'è un discorso molto teologico da fare è innegabile che per alcuni di questi soggetti c'è una profonda convinzione teologica e quindi ci sono imam moderati che affrontano scardinano o cercano di chiaramente scardinare queste convinzioni teologiche con armi teologiche in altri casi sono più approcci più materiali dare un lavoro aiutare un rinserimento nella società spesso è un insieme di tutti questi di questi approcci funziona? sì e no è chiaro che prima di tutto è difficile dirlo adesso sono iniziative che ne sono iniziate da poco si parla in paesi come l'Inghilterra in cui esiste un programma del genere di prevenzione della radicalizzazione si parla di un successo del 50% cioè funziona su una persona su due è quindi soggettivo se sia un successo o no dal punto di vista dell'antiterrorismo è un successo se pensiamo alle autorità francesi che parlano di circa 20.000 persone radicalizzate in Francia e pensate cosa vuol dire seguire quindi monitorare 24 ore su 24 20.000 persone da un punto di vista delle risorse è assolutamente impossibile se uno riduce da quelle 20.000 persone le fa diventare 10.000 dal punto di vista dell'antiterrorismo è un risultato incredibile è chiaro che ci sono dei soggetti che non potranno mai essere deradicalizzati questo va da sé nessuno è convinto che sia la soluzione a tutti i mali siano dei processi di radicalizzazione è uno strumento di riduzione della minaccia non di eliminazione della minaccia bene è una conversazione che ci ha portato in quest'ora ad accumulare moltissimi dati forse abbiamo tempo se c'è ancora un'ultimissima domanda per sfruttare proprio questa capacità di Lorenzo di darci queste visioni se non c'è ecco c'è lì se no la facevo io ma preferisco che venga dal pubblico e poi chiudiamo sono arrivato tardi quindi non so se ne avete già parlato la responsabilità dell'Arabia Saudita dietro tutto questo movimento ISIS io ne ho letti tante si arriva sempre lì le risorse date dallo Stato dall'Arabia Saudita ai terroristi allora discorso molto complesso non da affrontare in un minuto così però no domanda assolutamente valida diciamo che l'Arabia Saudita e un paio di altri paesi del Golfo perché direi che il Qatar e il Kuwait hanno anche un ruolo fondamentale negli ultimi 40 anni hanno diffuso a livello globale la loro interpretazione tradizionale che è estremamente conservatrice ed estremamente intollerante politicizzata dell'Islam grazie a i fondi enormi di cui hanno a disposizione i famosi petrodollari cambiando quella che è la faccia dell'Islam di molte paesi visto che parlavamo prima ad esempio di Balcani dicevamo l'Islam dei Balcani è tradizionalmente estremamente laico tollerante e moderato è parzialmente cambiato negli ultimi 20 anni in virtù dell'opera di missione di proselitismo di introduzione di un Islam totalmente estraneo totalmente esogeno rispetto a quello che è l'Islam balcanico però un Islam indogeno autottono balcanico privo di fondi che deve combattere contro un Islam finanziato da mega moschee di libri videocassette siti borse di studio per andare a studiare in Arabia Saudita sponsorizzate in Arabia Saudita Qatar e Kuwait è chiaro quindi che questa interpretazione l'Islam non è poi direttamente collegata a gruppi jihadisti perlomeno a livello statuale non c'è un coinvolgimento chiaro tra l'Arabia Saudita e il Stato Islamico è però chiaro che questo tipo di Islam propagato negli ultimi 40 anni è propedeutico all'interpretazione poi successiva che è quella jihadista cioè si crea un tipo di interazione dell'Islam talmente intollerante conservatrice che è poi chiaro che si crea un humus favorevole per chi poi arriva ed è un gradino ancora più in alto che è lo Stato Islamico devo dire però a essere insomma colpo a botto è un colpo al cerchio ma è per essere obiettivi negli ultimi 4-5 anni l'Arabia Saudita è cambiata in maniera importante e negli ultimi mesi c'è stato un cambiamento di leadership importante in Arabia Saudita con dei passi concreti tangibili non solo retorica di aver capito di aver creato un mostro chiaramente difficile poi adesso far rientrare questo mostro che si è creato in 40 anni però l'Arabia Saudita è cambiata quindi una narrativa che vede l'Isis come organizzazione creata e finanziata dall'Arabia Saudita è sbagliata è chiaro che è il prodotto naturale inevitabile di quel tipo di Islam che si è voluto spingere a livello globale è chiaro che per oggi l'Arabia Saudita è un paese fondamentale per cercare di riportare il genio nel diabolico genio che è stato creato per riportarlo dentro la lampada perché è chiaro che l'Arabia Saudita è un paese se non altro in virtù del fatto che è il paese custode delle due moschee di Mecca e Medina è un paese fondamentale nel punto di vista geopolitico e ideologico è un paese fondamentale per cercare di riportare questo genio nella lampada io vorrei veramente ringraziare Lorenzo Vidino perché le cose che ci ha detto sono state veramente davvero interessanti e con una capacità di farci individuare dei punti di vista che devo dire è rara vorrei sottolineare delle cose diciamo di questa conversazione come dire in controluce emerge emergono dei fattori fondamentali che ci interessano e ci riguardano tutti cioè questo tema ultimo sfiorato della cultura dell'humus culturale lo dico in controluce rispetto all'argomento di cui abbiamo parlato ma che ci riguarda perché questo è anche compito di tutti noi creare favorire una cultura che vuol dire un tessuto di relazioni una capacità di pensiero un uso della ragione che può in qualche modo favorire anche la logica della prevenzione impedire che altre persone vengano attratte risucchiate da questo mostro questo mi sembra un tema fondamentale e l'altro tema importante che leggo anche qui in controluce è quello dell'educazione perché in qualche modo tutta questa strategia preventiva di deradicalizzazione in qualche modo noi la possiamo inserire sotto il titolo educazione cioè il concorso di tutte queste forze di tutte queste persone di risorse eccetera nell'approccio alla persona perché alla fine il tema è quello quell'individuo lì quella storia lì quella persona lì e questo non lo puoi solo risolvere con i mezzi dell'antiterrorismo classico vuol dire in qualche modo favorire un approccio diverso a quella persona lì che come tutti anche nel suo male o nei suoi disegni nell'oscurità della sua anima avrà bisogno di risposte che magari ha trovato in altri modi perciò in questo senso mi sento che questi punti che abbiamo toccato oltre a farci capire molto di più in modo molto più interessante tanti fenomeni che viviamo in qualche modo ci aiutano anche a capire qualcosa del nostro compito per i prossimi anni allora grazie ancora Lorenzo Vidino buona giornata noi avremo un altro incontro qui alle 18.30 con Antonio Olivier in cui ritorneremo sul tema dei cristiani nelle zone dove vivono condizioni di persecuzione o di discriminazione grazie buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti